Qualcuno ha sparato con una pistola a quel povero ragazzo. Non è stato il mio fucile. Vittorio Emanuele di Savoia è stato arrestato. L'accusa è pesante. Di fatto ammette la sua responsabilità nell'uccisione di un ragazzo. Un video veloce che è stato ferito tuo fratello. È stato il principe. È morto Dirk Gerd Hammer. Il principe sparatore, come lo hanno chiamato i giornali francesi, rischia fino a vent'anni. Ma poi sono successe delle cose stranissime. Hanno detto che voi con i soldi siete riusciti e col potere a far rimandare il processo. No, non vedo come. Ma perché di colpo uno diventa innocente che tutto il tempo chiaramente è stato colpevole? Per 17 anni ho dovuto difendermi da tutti quanti che volevano come nella corrida la morte del toro. Ma il toro c'ha le corna. Ma il toro c'ha « Cosa. Ma il toro c'ha così. Cosa후?